bella ragazzi qui è il buschetta e oggi sono tornato qui sul mio canale oggi c'è qua un ospite molto speciale cioè il secondo video che facciamo oggi prima abbiamo fatto un altro su multiplayer non so se lo caricherò perché è una grafica proprio penosa non sentiva niente e oggi però adesso siamo qua sullo zombie faremo un video molto speriamo molto lungo e parti morti parti ok round 5 partiamo ragazzi non so se notate ma l'inquadratore è storta sto registrando sempre col tablet perché prima ho registrato col cellulare aveva una grafica per noi come ho detto prima e non sentivo un cazzo bene ok adesso si capisce molto molto mamma non so ragazzi se sentite la voce di che trucco dai fai vedere si lo so lo so giri 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 fai così ti dice una roba bella si lo so dai minchia è molto bella ragazzi Roma ce la sento per un po' di tempo pronto ciao ma io sono adesso qua a scopare l'xbox no minchia l'rpd ragazzi beh la minchia ragazzi il mio trucco funziona sempre non quello di Roma che fa cacare la minchia ragazzi comunque intendo che Roma non c'è risa junior oggi non c'è ma tornerà domani domani faremo un video un vlog penso di molto molto ma molto tempo poi parleremo di cose importanti forse no cazzo giuremo ragazzi gli stavo pigliando per il culo cazzo cazzo nooo Roman Roman svegliati ho l'rpd Roman svegliati perché ho la connessione così schifosa Roman Roman ho l'rpd ehi porca vacca ma ragazzi si dai muoviti rianimo bravo bravo ok scusate ragazzi per questo inizio è un po' schifoso aspettate un attimo andiamo a quadrare bene lo schermo così ok no sto cazzo ok vabbè ragazzi come si vedrà se vedrà a me non ne frega niente basta che si capisca qualcosa si vede un po' storto ma chissà ne frega tanto non è che mi importa molto bene prima ragazzi avevo fatto un video nel multiplayer di Back Ops 2 se riusciamo lo rifaremo eccomi tornato problema tecnico si una tecnica si certo certo molto ho l'rpd zio e perchè i miei trucchi funzionano sempre tu ti fai cagare proprio cioè spari la spari la no devi aprire la cassa a coltellare fare 360 a coltellare fare 360 e poi ti uscirà qualcosa di molto bello ah uh aiuto ragazzi vi ricordate beh quei pochi visitatori di quel video la che l'ultima volta ho caricato un video di zombie ma perchè lagga perchè mi lagga perchè lagga perchè porca miseria no occhio dietro occhio dietro con lagga occhio dietro occhio al laggo occhio forse no ragazzi l'ultima volta avevo fatto un video di zombie avevo scritto parte 1 ma mi sa che la parte 2 non sarà perchè ho cancellato i video perchè non avevo più spazio per fare questo video qua ma quindi aiuto quindi niente vedrò cosa fare perchè già per fare questo video qua sono 4 gigabyte forse non lo so ragazzi comunque eeeh niente niente bravo forse che forse questo oh a proposito come lo intitoremo questo video qua questo let's play qua questo let's play qua come lo chiamo come ah ok trovato ragazzi questo let's play qua forse lo intitolerò alex e roman due nabi a cazzeggio no lo intitolerò alex e roman poi farò la playlist alex e risa junior poi farò alex e ciao 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 e poi babbo natale poi farò alex e la befana poi alex e lo vuoi di pasco perchè gioca adesso che è pasco no bravo bravo ragazzi se non sentirete roma impazienza tanto non è che è molto importante scherzo perchè sto usando questo oh aspetta e muore non ricordi cos'è quella luce da sopra quale qual'è ragazzi vedi le luci lui ah la boh no 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 roma 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 c'è no 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 c'è l'era più di potenziato c'è l'era più di potenziato c'è l'era più ma alex toghe in eh eh? capa il video e rimettilo non capito un cazzo vabbè bene i prossimi video che facciamo con quali saranno? minecraft, si vabbè ma stai andando a video? eh? da 50 anni, da 7 minuti stanno andando altri giochi che faremo? hot pursuit è vero ragazzi no al prossimo video faremo hot pursuit faremo vedere quanto siamo forti a guidare noi volevo fare volevo fare most wanted però lui non ce l'ha è un nabo e non ce l'ho mi ha detto salte liam salte liam come tui nabbi salte liam ma che sono un cantante professionista è mio il tuo mondo di minecraft il tuo mondo di minecraft bene no, oh a te, oh ragazzi ehm mio amico che abita nel mio palazzo mi ha dato mi ha dato GTA San Andreas mi l'ha regalato ehi sfocca eee per il computer no e quindi nel prossimo video forse farò vedere cioè giocherò cioè cazzeggerò un po' in GTA San Andreas mi non dirà a morte da solo però giocherò ho già messo una mod cioè quella di della Ferrari quella della Pagani Zonda F e quella della Lamborghini e poi ho messo anche quella di della Lamborghini Galardo 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 oh Alex ehm ma hai sentito cosa da cargo cargo? eh per lui che cazzo è il tuo sport è il tuo sport eh dovrei andare in bagno io mi sto facendo addosso però ragazzi me la tatengo per voi per non essere assente oh ma quel caffè? ma che ne so hai fatto a cercare da solo ho sentito ti senta ti senta sei un nub eh poi ragazzi c'ho anche un altro gioco bello Giast House 2 non so per chi lo conosce bravi per chi non lo conosce bravi lo stesso perché tanto il gioco non è conosciuto molto nel mondo devo parlare un po' più ad alta voce perché non mi si sente la voce mi sa vero? ti lascio morire come tu ora hai lasciato morire a me quando avevo l'RPD potenziato ah io eh minchia ragazzi se soltanto Romano avesse GTA ragazzi c'è 4 quante belle risate ci faremo ci facessimo ci faremo ma è tra poco quando c'è a 5 ma è tra poco a settembre non è poco ho già finito le munizioni che bello ma che GTA 5 uscirà a settembre io 8 e 2 c'è la GTA 4 GTA 4 The Bound of Gaetani GTA 4 The Lost Diamond 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 quello che è togli ma scusa ma non tu la puoi andare a comprare tu non la costa 5 euro 10 euro quanto costerà GTA 4 si è proprio da GameStop eh vai a GameStop eh vai a GameStop oggi te la prendi te la prendi no ci facciamo i video insieme ti divertirei un casino fidati io tipo ho preso The Ballad of Gaetani e l'altro i LC l'ho presa 20 euro che sarebbe come GTA normale GTA 4 normale quindi ti consiglierei di prenderti ti consiglierei di prenderti cosi la ehm 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 si bravo prendi quei due perchè GTA 4 è un po' mosche nel multiplayer oh cazzo ho il ballistico ho il coltello aiuto no ma ehm ho capito ti prendi i ballad of gaetani sono morto che bello porca miseria aiutami nabbo dove sei dove sei dove sei no eccoci perchè vedo eh cosa cosa aspettate per caricare cosa oh ehm ehm posso andare ehm ehm lag 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 perchè ti lagga perchè mi lagga Roma perchè mi lagga è entrato overload è entrato overload ragazzi è un altro nostro amico di xbox live perchè non lo conosce bravo sì ti conosco ciao overload ciao muori via ciao come si butta fuori ma che ne so non puoi buttarlo fuori avventa al massimo invitano il gruppo ragazzi lascialo giocare lascialo giocare ma intanto ci aiuterà ragazzi intruso ospite inaspettato ospite che entra così nelle partite a random cioè boh 1.300 1.300 1.30 punti in modo da prendere così quasi un'arma 2.300 io ho il controllo ballistico dimmi tessi ti va bene bastardo io non l'ho preso è stato io non l'ho preso non l'ho toccata io la cassa perchè non avevo punti no no coltello ballistico porca puttana cioè guarda dove è finito coltello ballistico adesso non riesco più a prenderlo è finito dietro la cassa guarda ma mi lasciate no hai messo i cani bella hai messo i cani ragazzi ragazzi passiamo da un'arma bella un'arma più bella ora ciao 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 vado ciao 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 si ha capito non è anche sordo Non ho soldi Cani bastardi Sono cattivo ragazzi Perché ha sto gruppo Ragazzi Gente che entra Io ti ho detto di mettere Cosola Che Invito soltanto su Cioè Una persona che entra soltanto su invito Ho detto di mettere E tu no Bravo Suicidati Oddio C'è un cane che vola ragazzi Guardate C'è un cane che vola C'è un cane dentro Dentro il muro Ragazzi Mi è crashato Che ragazzi Ho fatto Mondici uccisioni Che schifo Che faccio Ciao Ho sparito un po' Ragazzi Subito dopo questa partita qua Andiamo su Su Unifor Unifor speed up course Da fare un video Se soltanto Ho spazio però per farlo Perché non so se avrò spazio Ma se avrò un bastardo Non prenderò io Usa il coltello Non sparare così A raffica Se soltanto vedeste la mia faccia Se soltanto vedeste la mia faccia ragazzi Ti odio Ti odio Ti odio Oh Eh Eh Ma Se soltanto non sono la gas Che bello La cosa Romano tu c'è Chi è stato Romano tu ce l'hai ancora Mv3 Ce l'hai ancora Perfetto Facciamo un video anche su Mv3 Facciamo un video anche su Mv3 Dopo Perché i zoom Ma che palle Cioè i zoom Passano attraverso le macchine Vabbè Open No Close Cioè Preso la bomba nucleare Proprio la fine del run Soprattutto Soprattutto un tenaggio E' abbagliato Soprattutto con potenza e gali Eh Soprattutto con gali di potenza Mh bravo Aiuta Sono morto Ma perché ho proprio Ames Eh Eh Perché siete morti Eh Dai che muore Muore anche te Romano Perfavoro Almeno così Finiamo un quale video Perché sta durando troppo Sta durando 20 minuti Romano Muori Muori Suicidati Ti Qualcosa per Per finire la partita Ti prego Oh Lola Non ci provare Allontanati Via No No Ok No Non vuoi capire che il video Sta durando troppo Chi se ne porti Chi se ne porti Tanto poi il gigli Tanto poi La memoria Tra l'altro Se è mia No No downs Acc선 Ma ma Sì che Sissi перев Ma E va a potenziare Ma ci sono prima stati i cani Beh magari ogni 5 round Magari non aprirla Ma perché c'ho le RPG Io non gioco più Mi metto qua Ok meglio Sparare Non ho parole ragazzi Sì va bene Sì va bene Ma quanto siete carini Non avete capito che io voglio morire Qui sei lì Piglia piglia Ma quanto sei forte Ma quanto sono scarso Che molto sei forte Secondo voi i zombie mi prenderanno qua Se va mi prendono Che bello Ragazzi Adesso sto cazzando perché non ci puoi fare il video Perché Perché ragazzi non ci puoi fare il video Perché sta durando troppo Poi Poi No overlord Suicida Ti va a tenere No overlord Non devi Binge Overlord No Cosa Overlord muori 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 Oh ragazzi Questo video qua abbiamo sprecato 3 gigabyte Ci hanno ancora liberi 2 Cazzo Aspetta Quando c'è l'interrotta Vabbè mi è scelto Vabbè mi è scelto Vabbè Si vai bello Bella Ragazzi Niente Il video qua è finito Zitto Il video è finito E Ci vediamo nel prossimo video con Nifrospeedals Pursuit Bella Grazie 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 Grazie